Angelina Mango, ci pensiamo domani, e invece no, noi ci pensiamo oggi, li vedete già qui in studio con noi, i nostri ospiti Filippo Varenti e Emanuele Breveglieri di Smonting. Già mi fa paura però, non ci smontate niente qui in studio, vero? No, assolutamente. Boh, vediamo, magari c'è qualcosa da smontare. Mi piace, perché se per caso smontate, dove vanno le cose che smontate? Bella domanda. Allora, le cose che smontiamo vengono selezionate per tipologia di materiale e poi vengono conferite nelle discariche in maniera corretta. Alcuni pezzi li teniamo per fare dei laboratori successivi per la creazione di gioielli, di cose strane. Lampade. Lampade. Così, e lasciamo ai bambini, perché il nostro lavoro viene fatto con i bambini, è la libertà di inventare. Loro non hanno schemi e quindi si inventano di tutto con questi pezzi recuperati. Quindi, in fondo, da una cosa che magari noi butteremmo una pattumiera, anzi ci dà anche fastidio in casa, dai, butta la via che mi dà fastidio. Voi ritrovate da anima nuova questi oggetti, oggetti quasi sempre tecnologici, immagino, no? Oppure c'è di tutto? Un po' di tutto, ma ultimamente ci siamo concentrati su quelli tecnologici, perché è il rifiuto che c'è di più. In giro, nelle nostre case, ognuno ha qualcosa di tecnologico fermo. E la cosa bella, appunto, è che c'è anche un risvolto, diciamo, sociale, anzi proprio associativo, nel vostro caso, perché sono i bambini, poi, è una creatività, perché viene utilizzata da parli in questo momento, quindi i bambini che vanno a creare, proprio. E chi sono questi bambini? I bambini li peschiamo un po' dovunque, perché... Dalla loro volontà. Dalla viglio, dalla viglio, sono proprio. Ma essenzialmente sono studenti delle scuole primarie, cioè le ex elementari, per intenderci, no? Perché io e mia moglie, che siamo i fondatori, diciamo, dello smonting, siamo educatori, lavoriamo nelle scuole, per cui abbiamo un grosso bacino. E poi, anche perché questa tipologia di approccio didattico, perché alla fine è un approccio tra il sociale e il didattico, si presta bene, non so, andare nelle biblioteche, oppure quando si fanno eventi nelle zone. E poi il discorso che faceva Filippo prima è corretto. Andiamo a recuperare quello che i bambini hanno più vicino a loro, quindi un vecchio decoder, il videoregistratore del nonno, del papà, il lettore cd-dvd, che hanno sempre visto chiusi, ma molto spesso sono cose che, attento, si rompe, non si... Eh, ma per un certo punto si rompono. E quindi cosa facciamo? Li trasformiamo in strumenti didattici, perché tu devi aprirlo, ed è il discorso dell'apertura della cassa del tesoro, cosa c'è dentro? Andiamo a vedere, devi avere degli utensili e conoscere delle procedure di sicurezza per aprirlo, perché non è così semplice. Quando lo apro, tolgo tantissime cose interessanti, alcune proprio dal punto di vista squisitamente del design, una scheda video è molto bella, di solito sono anche le uniche cose che sono colorate con colori molto vivi all'interno dei computer, e tra le cose che ho separato troverò sicuramente qualcosa che mi porta a casa. Ah sì, eh? Sì, i bambini, l'obiettivo è il trofeo, qualcosa che attira l'attenzione, per forma, per la tipologia di materiale, o semplicemente perché noi diciamo, ad esempio nei computer, il processore c'è dell'oro. Allora i bambini, gli occhi iniziano a sbirluccicare, oro. Poi spieghiamo, sì, ci sono tre atomi messi a stellina, tutti per cercare di far passare i segnali, e però loro hanno ancora nella testa oro, oro, così. E quindi quello è il loro trofeo. Quello sì, poi essenzialmente, come diceva prima Filippo, ci sono tutta una serie di materiali che in questo momento sono importanti, le terre rare per esempio, le terre rare che sono al centro di alcune ricerche per il loro recupero dai device, perché non è così facile, c'è tanto rame, c'è l'argento, c'è l'oro, c'è l'oro, che sono, rientrano nel discorso di economia circolare che in questo momento è quello che va per la maggiore, no? Economia circolare che aiuta appunto, anzi poi oggi Fridays for Future è in piazza appunto per proprio parlare di questi temi, parlare anche del sorriscavamento globale, è appunto una delle possibilità che ci dà la società moderna di magari rallentare un po' questa caduta libera che stiamo facendo verso l'oblio, mi viene da dire, no? Sono un po' di parte sul tema. Sicuramente questo lavoro aiuta anche a creare una maggiore consapevolezza. Allora, l'obiettivo principale è sui bambini insegnare la difficoltà costruttiva e progettuale che c'è dentro, ci sono dentro le cose. I bambini d'oggi lavorano in un'ottica di servizio, voglio usare una cosa, non voglio sapere come funziona. In quest'ottica cambiare una cosa è molto più veloce, cioè più facile. Tanto ce n'è un altro, faccio un click, mi arriva il giorno dopo e si cambiano cose non rotte, ma solo perché non sono l'ultimo modello. E questo l'abbiamo toccato con mano a tal punto che noi adesso come associazione supportiamo una scuola in Bangladesh per 60 bambini fuori casta, semplicemente rivendendo il materiale che ci è stato donato e ha ancora un valore residuo. Perché è inutile smontarlo, ha più valore, valorizzarlo in questo modo e devolvere tutto a questa scuola. E quindi con il rifiuto della nostra società aiutiamo il rifiuto della società del Bangladesh. Noi non prendiamo donazioni in soldi, ma solo donazioni in materiale che è considerato non più funzionale al business dell'azienda o delle persone e quindi non ancora rifiuto, ma utilizzabile e lo facciamo diventare materiale didattico per i nostri laboratori. Obsoleto, sì, la parola. Hai capito? Obsoleto, obsoleto. Hai capito? Quindi potrei benissimo a fine stagione dare dentro te, Lorenzo. Tanto dentro, vediamo, magari trovano qualcosa per rifarti fare. Sì, la prossima non mi sveglio alle 5.50, te lo dico. Sì, è 6.01, ma benissimo. Così siamo qui lo stesso insieme. Come tutte le mattine che siamo qui appunto alle 7 alle 9 a raccontarvi un po' Milano, oggi appunto in compagnia di Smonting. Continuiamo, continuiamo la nostra intervista, ma solo dopo aver dato un attimo uno sguardo anche alla musica di Crystal Radio, o meglio un ascolto, perché adesso è il momento di Sfera e Basta con Di Notte insieme a Dernia e Carl Brave. E Lusignolo cosa dice? Non era come immaginavo, disse Lusignolo. Così chiude Sfera e Basta, 8 e 44 minuti. Crystal Radio, ben ritrovati all'ascolto di Good Morning Milano con il Fido Scudiere, qui di fianco a me Lorenzo Masieri. E Fabio Ranfi. Sempre qua. E non siamo soli. No, chi c'è con noi? Filippo Valenti e Emanuele Breveglieri di Smonting. Esatto. Associazione di Milano, zona 3 siete vero? Sì, sì. Zona Ortica Lambrate. Sì. Ma l'Ortica ormai, ragazzi, c'è una zona inna adesso, lo sapete? È stata gentrificata. Eh, ormai è una di quelle zone che a murales su murales è diventata… Qualcun'altro avrebbe detto che è stata rigenerata. Dipende dai punti di vista, dipende dai punti di vista. Ci sono tre step, riqualificazione, rigenerazione e gentrificazione. Bravissimo. Bisogna capire poi da che parte va l'asticella. Vabbè, così è. Sta di fatto che anche a Ortica, forse comprare casa, costa il doppio che abbia sono. La notizia di questa mattina è che a Milano paghiamo le case il doppio rispetto al resto della Lombardia in media. Quindi, pensa, c'è nelle zone centrali che sta otto o nove volte di più. Sta di fatto che non parliamo di case, ma parliamo di cose che potreste pensare essere pattumiera, essere ormai obsolete da buttare via e invece… Potrebbero finire in un museo, perché ne stavamo parlando adesso fuori onda. Ma tu sei bravo. Non ve lo posso dare fino a stagione. Un po' mi insulti. No, mi spiace, non posso darvelo fino a stagione. È troppo bravo, ma mi spiace, mi spiace. Cesta radio, alziamogli lo stipendio a proposito a Masieri, che qui c'è un bisogno, che deve pagarsi gli studi anche. Sì, è vero. Dicevamo, però, perché è oggettivamente vero, io perro la tua causa. Oggettivamente dicevamo degli oggetti, scusate il gioco di parole, che potrebbero anche finire nei musei, giusto? Perché? Cos'è successo? Raccontaci questa storia. Casualmente, mentre stavamo facendo smonti, siamo entrati in contatto con il Museo della Tecnica Elettrica di Pavia, perché a fin dei conti stavamo chiedendo informazioni su un pezzo che non capivamo che cosa fosse. E da lì è nata una bella collaborazione, una bella amicizia anche con il loro curatore, l'ingegner Pietra. e quindi quando ci capitano dei pezzi un po' strani, cioè che diciamo, ma questo qua, secondo, è vecchio, ma lo smontiamo, lo smontiamo, cosa facciamo, Filippo? Mandiamo un WhatsApp a Francesco. A Francesco, che ci dice, che è appunto il curatore, che ci dice, no, guardate ragazzi, questo qua veramente è un pezzo che non ha un valore museale, perché stiamo parlando di valore museale, no? Oppure ci dice, caspita, questo qua figurerebbe bene nella nostra collezione, quindi noi ogni tanto andiamo a questo museo, nella tecnica elettrica di Pavia, e scarichiamo quello che è stato selezionato dalle cose che ci hanno dato, che erano da buttare, che erano da smontare. Posso raccontare la storia della classe? Ah sì? Hanno fatto un laboratorio loro in una classe e hanno chiesto di portare del materiale. Tra questo materiale c'era qualcosa di veramente interessante che ha attirato l'attenzione di Francesco e ha detto portatemelo. E si è lanciato oltre, ha regalato a questa classe una visita guidata gratuita al museo della tecnica elettrica, per ringraziarli di aver donato quel pezzo. Quindi qualcosa che veniva considerato quasi come un rifiuto e portato a scuola per essere smontato, diventerà un pezzo di museo e la classe andrà gratuitamente a fare la visita guidata al museo. È fantastico perché è l'utilizzo ottimo di qualcosa che qualcuno pensava. immagino anche il senso di protagonismo di questi bambini che appunto si vedono un museo che gli dice grazie per una cosa che gli viene donata. Ma perché loro hanno deciso di donarlo perché quando noi abbiamo detto che quel pezzo aveva un valore, loro ci sono radunati, hanno fatto la votazione e hanno volontariamente deciso di donarlo. Quindi dovevano essere premiati in questo mondo. Bellissimo, bellissimo. Voi premiate anche altre associazioni però a Milano, nel senso che alcune cose non vengono smontate, alcune cose non vengono donate appunto al museo, ma altre cose vengono magari semplicemente risistemate, no? Sì. E altre associazioni, magari meno fortunate di altre che magari hanno bisogno di certi device, di certe tecnologie, voi le aiutate, giusto? Sì, perché ultimamente abbiamo notato che ci donano materiale ancora usabile, nel senso, che ha ancora valore. Ce lo donano non perché è rotto ma perché non è l'ultimo modello. E quindi noi per statuto abbiamo che supportiamo tutte quelle associazioni che hanno poco budget e devono decidere se cambiare un computer o una stampante o fare un progetto per i loro utenti. E di solito loro fanno un progetto per i loro utenti. Dico a queste associazioni di chiamarci, scriverci perché noi periodicamente potremmo avere qualcosa di usato, funzionante, ma se uno deve navigare in internet, mandare la mail, stampare un volantino, tutto quello che ci viene donato in questo caso è perfetto. Quindi diamo magari le coordinate per contattarvi? È info-smonting.it Semplicissimo. Semplicissimo, così uno se lo ricorda. È la nostra mail istituzionale con cui noi interagiamo con le altre associazioni. Poi c'è un sito, smonting.it, è una pagina Facebook per cui ci si può contattare. E attenzione che potete anche donare del materiale invece, ma attenzione quale, perché non è arrivato la rotina e lo smontacantine. Non siamo lanza. Asciugacapelli? No, perché quando lo smonti capisci tutti i cambi di colore che ha fatto la signora che gli usava. Fori a microonde? No, perché capisci cosa ha mangiato la famiglia. Macchine del caffè? No, perché non si smontano di solito. Non sono male, però il problema è che sono tutte pressofuse. Pressofuse. E allora, smonting è una parola macedonia che sta per smontare insieme giocando. Quindi durante i nostri laboratori è fondamentale giocare e quando uno gioca si deve divertire. Se noi troviamo materiale che iniziamo a smontare e poi ci fermiamo, il bambino rimane un po' così. Si dice cosa c'è poi. Appunto, quindi di solito non prendiamo neanche tablet, cellulari, eccetera, perché i bambini sono attirati da queste cose. Si buttano, smontano due cose, poi microelettronica appiccicata e si fermano. Li prendiamo, se sono funzionanti, per donarli ad altre associazioni, ma non per i nostri laboratori. Ti posso interrompere? Se sono funzionanti, mi raccomando. Non che gli date adesso, mi fate qua i 3310 del vostro nonno con i tasti sbiaditi e il display che va solo con Snake. La cosa più deprimente per un bambino da smontare è uno smartphone. Cioè, ragazzi, voi lo aprite, ammesso di riuscire ad aprirlo, perché... Sì. E poi c'è uno schedone, tutto saldato insieme e basta, fine. Una delle cose più divertenti da smontare è un vecchio videoregistratore, una vecchia radio. Allora lì sì che ci sono delle cose da studiare. Ci sono tantissimi viti. Esatto. Perché poi noi quando facciamo i laboratori diciamo sempre di fare domande. Non è solo smontare il nostro laboratorio, è anche imparare, conoscere. Noi siamo un po' cattivelli. A fine del laboratorio diciamo, ma sapete che avete studiato? E non usiamo il termine imparato, ma studiato. E i bambini ci guardano e ci... Vi denunciano per truffa. Ma no, ma non è vero. Lavoro minorile. E invece raccontiamo, diciamo, guardate avete imparato a proteggervi con i guanti. Imparato le punte dei cacciaviti. Perché un bambino sa configurare un wifi, ma non riconosce le diverse punte del cacciavite e della vite. E poi all'interno raccontiamo perché quei pezzi hanno quella forma e sono fatti di quel materiale. E quindi imparano giocando. Ti capisci, caro mio Lorenzo, è così, è così. Quindi smonting, seguitelo, smonting.it abbiamo detto. Poi c'è la pagina Facebook e comunque info-smonting.it se volete qualche informazione. Sono disponibilissimi, gentilissimi. Poi appunto fate i laboratori, insomma avete... Possiamo dire che c'è anche la ricerca di una sede, così qualcuno che ci scende... Sì, il nostro grosso problema è lo spazio perché riusciamo a fare innamorare molte persone e ultimamente anche delle aziende e ci dicono ok, nei prossimi sei mesi dismettiamo 400 desktop. Noi non possiamo prenderli perché abbiamo già riempito le nostre case. Non uno o due. Sì, so che ci sono dei matrimoni che traballano ogni tanto qua perché c'è troppa roba nelle case. Quindi aiutate Filippo e Emanuele a mantenere la loro vita coniugale perché qui il rischio è anche quello. No davvero, fatevi un giro sul sito di smonting, è molto interessante tutto quello che loro fanno, molto interessante perché soprattutto, ed è questa la porta più bella di tutte, non lo fanno per se stessi ma lo fanno per i bambini, lo fanno per le altre associazioni di questa grande città che è Milano e non solo perché anzi avete ispatriato anche nel museo di Pavia, quindi insomma museo della tecnica elettrica. Sì, sì, è fantastico, bellissimo, andate a visitarlo se vi capita perché è veramente un bel museo. Io ci vado subito, adesso dobbiamo salutarci ma prima ci sono i Maleskin, poi li salutiamo sulla sigla finale, dai. Ed erano i Maleskin alle 8.56 minuti, 8.56 minuti che fa la rima con? La fine di Good Morning In A. No, era questo, bravissimo, vedo che hai colto al volo la mia provocazione, che non è una provocazione. E siamo qui a salutare chi? Emanuele e Filippo di Smonting. Grazie davvero per essere qua con noi. Grazie a voi. Grazie per averci raccontato una bella storia ma soprattutto grazie per aver fatto una bella storia. Cioè come sempre... Posso chiedere un'ultima cosa? Puoi portarci a dei microfoni, delle cuffie da smontare per andare via? Vabbè adesso chiediamo, guarda, c'è il presidente di Cristal Radio, so che è in ascolto, io gli do i microfoni e poi dopo vediamo in qualche maniera, diamogli, cioè i bambini come fanno a non divertirsi, deve essere divertente un microfono dentro, c'è il magnetino, quelle cose lì, quindi deve essere abbastanza divertente. Grazie mille davvero, smonting.it, giusto? Sì. E noi quando torniamo invece? Noi ci vediamo domani, no, è venerdì, è venerdì, mamma mia domani si dorme, meno male, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, qui in diretta su Cristal Radio, 96.2 FM, streaming da PLUS e tanti altri posti. Abbiamo i microfoni, mi è arrivato il messaggio. Dobbiamo rientrare? Sì. Vado. Ed è la magia di Cristal Radio, 33178 53555, c'è appena arrivato il Whatsapp di Alberto che dice abbiamo dei microfoni da dargli, quindi arriveranno dei microfoni. i cari amici di smonting. E ma Zati deve andare a fare una festa? Ah ma c'è Lisa oggi. Sì, ma guarda come vestita. Deve andare ad un aperitivo? Che è successo? Vado. E allora appunto, grazie ancora agli amici di smonting, grazie un po' meno a Lorenzo Masieri. Grazie ancora meno a te e Fabio. Grazie. Ci rivediamo lunedì. Ti chiedo il microfono, basta. Prova a parlare adesso se capace. Non mi so. Anche non mi so. Dai, ci sentiamo lunedì allora, va bene? Sì. Lunedì, sempre qui, dalle 7 alle 9 su Cristal Radio, FM 96.2, Dub Plus e tante tante altre situation, tra cui il non amato Twitch di Lorenzo Masieri. Invece venite su Twitch che ci vedete anche e adesso, tra pochi minuti, di nuovo su Milano News potete rivedere tutta l'intervista, tutto quello che abbiamo fatto, i nostri sketch comici, insomma tutto quanto, tutti i giorni, dalle 7 alle 9 su Cristal Radio.it. Buon weekend, ciao a tutti.